Si è tenuto al Museo della Pace, in Via dei Preti, San Napoli, il convegno L'evoluzione della professione giornalistica, l'impatto della share economy utile per la formazione professionale dei giornalisti. Esponenti politici e nomi di spicco del giornalismo italiano sono accorsi all'evento, dinanzi ad una platea assortita, composta soprattutto da giornalisti di ogni età. Come sta cambiando la società in risposta a relazioni economiche basate sulla condivisione e rivolte ai consumatori? Questo è uno dei temi principali. Tra gli ospiti della giornata, il noto volto del giornalismo italiano Francesco Giorgino. L'economia condivisa, così come la knowledge economy, così come la new economy, così come la digital economy, sono le dimostrazioni che probabilmente ciò che un tempo avremmo considerato come struttura oggi è sovrastruttura e ciò che un tempo abbiamo considerato come sovrastruttura oggi è diventata struttura. Le persone si informano soprattutto oggi anche su Facebook. Qual è la differenza fra un giornalismo che nasce non dal social network, cioè il giornalismo che lei fa nel telegiornale, insomma, e il giornalismo invece che viene dal social network? Allora, ci sono due paradigmi che si confrontano. Uno è quello che continua a tenere in modo estremamente congiunto la parola giornalismo con la parola informazione ed è sostanzialmente il paradigma dell'informazione mainstream e l'altro è un paradigma un po' più flessibile per cui queste due parole giornalismo e informazione si dissociano e l'informazione senza giornalismo è l'informazione fai da te, l'informazione di cui spesso il pubblico si nutre se e quando ricorre esclusivamente alla fruizione di contenuti che vengono veicolati soltanto dai social network. È chiaro che la differenza è enorme. La share economy è una situazione nella quale bisogna, diciamo, allargare tutto quello che si può fare per restituirlo a tutti quelli che vogliono questa cosa. Supponiamo un taxi che può lavorare 24 ore al giorno. Lavora 24 ore al giorno perché dentro ci sono tre persone che smontano di volta in volta e che quindi, diciamo, massimizzano moltissimo il risultato per i consumatori. Quindi la share economy è una cosa per i consumatori. La seconda ragione per cui è una cosa per i consumatori è che se qualcuno di voi si ricorda che c'è il Cristo velato nella Cappella Sansevero, se si vede nel Cristo velato che il velo è qualcosa che si espande, diciamo, su tutto quanto il corpo di Cristo. Che cos'è la share economy? Espandere su tutto quello che è il corpo delle città o delle industrie o delle grandi organizzazioni. Un velo che rappresenta, diciamo, l'insieme volta a volta dei prezzi che stanno nascosti sotto questo velo. Presente all'incontro anche l'assessore della Regione Campania, Sonia Palmeri, la quale è intervenuta anche sul progetto Garanzia Giovani. Sicuramente la professione dei giornalisti sta cambiando. L'evoluzione dei tempi e l'evoluzione delle nuove tecnologie ci rassegna a dover prendere questo tipo di considerazione come forte e duratura purtroppo nel tempo. Però dobbiamo rispondere in maniera anitta. La Regione Campania ha risposto attraverso quattro bandi dei giovani per i giovani professionisti. Noi ci puntiamo moltissimo. Anche le professioni, 26 professioni ordinistiche e non ordinistiche che stanno rispondendo bene, vuol dire che ce n'era proprio bisogno. Quindi io ho messo a disposizione il mio osservatorio del mercato del lavoro regionale per approfondire anche i problemi che possono riguardare il settore del giornalismo campano. Progetto Garanzia Giovani. Quanto è importante un evento come questo oggi proprio per i giovani? Sicuramente Garanzia Giovani è un programma che in Campania ha avuto un discreto successo. Noi abbiamo avuto circa 12.309 assunzioni. Abbiamo avuto 27.000 giovani che hanno sviluppato un tirocinio formativo, molti dei quali poi sono gli stessi che sono stati assunti. Quindi sono abbastanza contenta di questo. Stiamo andando avanti. Garanzia Giovani ha dato grosse possibilità, è un volano e lo spero anche all'interno di questa professione. Sull'importanza della formazione professionale è intervenuto il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Quanto è importante questo incontro per il potenziamento della formazione dei giornalisti? Sì, ti ringrazio per questa domanda perché la sharing economy è uno dei temi che stiamo affrontando, è il terzo corso che affrontiamo su questo tema. Anche perché noi siamo arrivati ormai complessivamente in tre anni e mezzo oltre 300 corsi. Quindi oltre naturalmente a una dose massiccia di odontologia, di giurisprudenza, di diritto. Poi stiamo organizzando vari corsi su temi specifici. Molti di questi temi arrivano proprio dalla base dei colleghi. Quindi come oggi parliamo di sharing economy, così abbiamo fatto dei corsi su Google, dei corsi su Facebook, su Twitter, quindi su cose anche molto specifiche. Ovviamente affrontando tutti i temi, dallo sport al cinema, all'economia, agli esteri. Il panorama ormai è completo. Ci sono alcuni format tipo questi che poi adesso dobbiamo portare un po' in tutte le province. Giornalismo, informazione e share the economy sono stati questi gli argomenti della giornata. Val Tederosa, Campania Felix.